Ciao a tutti e benvenuti sul canale di Armi Ritagli. Io sono Jennifer e ho creato questo canale per condividere con voi la mia passione per tutto quello che è l'arte, l'illustrazione, la colorazione, il car making, scrub booking, in generale tutto quello che è paper crafting ed è legato a carta e colori. Sul mio canale troverete tutorial di colorazione, di car making e scrub booking ma non solo. Voglio creare per voi degli spazi di chiacchiere dedicati a tutto questo mondo, dedicati alle novità, alle tendenze, per seguire tutto quello che è il movimento in questo mondo e chiacchierarne un po' insieme. Vi aspetto quindi nei video del mio canale per condividere con voi questa mia grande passione.